Con la presa d'atto da parte del socio unico il Comune di Napoli della trasformazione di ARI in SPA in ABC Acqua Bene Comune, Napoli diventa la prima città italiana ad attuare la gestione pubblica dell'acqua, nel rispetto della volontà espressa da 27 milioni di elettori con il referendum del 12 e 13 giugno del 2011. Nel 2011 la stragrande maggioranza dei cittadini italiani disse fermamente che non voleva che il bene comune per eccellenza, l'acqua, fosse sottoposto alle logiche privatistiche delle società per azioni e alle logiche del profitto. È partita un progetto importantissimo, quello di procedere alla trasformazione della società per azioni in un soggetto totalmente nuovo, che non esitiamo a chiamare un soggetto che esprime il concetto di impresa democratica. È la prima esperienza in Italia, è una delle primissime esperienze a livello europeo, voi sapete che l'altra esperienza che ci ha un po' guidato nella battaglia referendaria era l'esperienza di Parigi, appunto, con Eau de Paris. Adesso insieme a Eau de Paris ABC rappresentano le due grandi esperienze di gestione attraverso un soggetto pubblico ma partecipato del bene comune per eccellenza, appunto, che è l'acqua. Con questo atto formale, che realizza concretamente uno dei principali punti del programma della Giunta dei Magistris, si garantisce dunque la gestione partecipata del servizio idrico integrato attraverso la presenza di un comitato di sorveglianza e di un consiglio di amministrazione che vede la partecipazione di utenti, lavoratori dell'azienda e rappresentanti di associazioni ambientaliste. Questa svolta, certamente anche il risultato di oltre dieci anni di battaglie per la difesa dei beni comuni da parte di tante associazioni e semplici cittadini, è vista con molto interesse anche da tanti comuni italiani che intendono seguire l'esempio di Napoli. Questo è un momento di grande festa dal punto di vista politico per la cittadinanza di Napoli che è la prima che potrà godere davvero dei benefici dell'acqua pubblica, il che significa acqua gestita senza l'ossessione del profitto, nell'interesse di tutti, nell'interesse dell'ecologia del territorio, nell'interesse di uno sviluppo della città che sia sostenibile e che sia di qualità.